C'era Gesù tra noi, nelle trincee presso il donno, a tenerci compagnia nel gelo. Se no, di che saremmo vissuti se neppure Lui ci avesse parlato nel silenzio notturno della steppa. Chi può vivere soltanto di gelo, di fame, di fuoco? E allora Lui ci sussurrava il nome della mamma. Ne adoperava la voce per offrire l'augurio e il dono di Natale. Ritorna figliolo, noi ti aspettiamo. Innumerevoli gomitoli grigio-verdi rannicchiati e infissi nella neve. Eravamo un'unica linea presso il donno, ma pochi per la bianca vastità di Ivanovca, Galuba Iacrinica, Nova Kalitva, molti soltanto a Selinijar, al piccolo cimitero nato dal sangue degli albini dell'Aquila. Il bambino parlava a noi, si soffermava in silenzio e inatteso innanzi a loro, li attendeva per portarli con sé, nella notte di Natale. Noi superstiti restavamo sgomenti. Quel mistero si esprimeva soltanto in dolore. Sopra la neve, sotto la neve, legava un'unica paternità, una stessa sorte. Ma noi siamo tornati. Non c'è più un Natale uguale a quell'ultimo nostro. Ogni anno siamo là, su quella neve, a chiamarli. Fratelli nostri, noi vi ricordiamo.